FRAW OF MEISTER Sono d'accordo. È strano, ogni volta che suona questo pezzo mi commuovo. Voi no? Sì. Vuole dare a Otto delle lezioni private. Ben presto e vi ritroverete ad occuparvi di tutta la mia famiglia. Vi suggerisco di lasciare il vostro alloggio e venire ad abitare da noi. Un, due, tre, stella! Vi ho visto! È assurdo essere separati da un tavolo così grande, non trovate? Non possiamo continuare così. Così come? A mentirci. Ma che diavolo vi siete messo in testa? Il governo messicano vuole attirare investitori europei. Le porte... Sono spalancate. Siete l'uomo giusto per questo lavoro. Come? Devo andare in Messico per due anni. Per due anni? No, non è possibile. Io ne morirò. Non posso vivere senza di voi. Perché non me l'avete mai detto? Dobbiamo... Dobbiamo... Noi dobbiamo farci una promessa. Una promessa d'amore. Soltanto la passione che tocca i suoi abissi può accendere la fiamma della verità più profonda. Soltanto chi si perde veramente potrà ritrovarsi. Sembra Grazie a tutti.